Quando io sento il calpestino di un bastone cercare il solito appoggio, quando lo sento sfiorare la terra arsa, oppure un prato erboso cosparso di tenere foglie, o salire una scala dal marmo sempre più freddo, quando lo vedo stretto tra due mani ruvide e stanche, indicare un passo sicuro, io mi chiedo come può un piccolo pezzo di legno sostenere il peso degli anni e la tristezza del cuore. Grazie 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 Grazie